come la tradizione al mille miglia si può merenda però il culo chi è che lo vuole? io! tu gli assaggi? vado! sono il pescetino e il gotturnio le! boh! adesso sappiamo come si impasteggia, eh? alla faccia del colesterolo si può! no! 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 e 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